buongiorno nel brano del Vangelo che oggi ascoltiamo l'inizio del capitolo 2 di Marco i primi 12 versetti si racconta di Gesù che guarisce un paralitico che viene calato dal tetto della casa dove gli si trova perché non c'era modo di passare attraverso la folla numerosissima che era lì assiepata ad ascoltare la parola di Gesù e a far guarire i propri malati la guarigione del paralitico è preceduta però dal perdono dei peccati cosa che scandalizza i farisei presenti perché dicono anzi pensano ma Gesù interpreta il loro pensiero solo Dio può perdonare i peccati dunque vi è una missione di Gesù della propria figlianza divina una missione più pratica che razionale Gesù porta con sé la forza dell'amore di Dio e la mette in pratica e quindi la sua parola è efficace non solo la guarigione dalla malattia fisica ma anche appunto il perdono dei peccati ora quello su cui vogliamo soffermarci oggi però è come tutto ciò accada perché Gesù vede la fede di coloro che portano il paralitico e si inventano creativamente una stratagemma per presentarglielo davanti anche passando oltre la fila qualcosa che sorprende Gesù stesso ed è proprio perché c'è la fede di questo gruppo di amici che è possibile che avvenga tutto quello che segue a noi oggi questo diviene da monito e da invito perché è bene che la comunità cristiana che è la chiesa impari sempre di più ad essere una comunità di amicizia in cui ci si inventano tutti gli stratagemmi perché le persone possono arrivare davanti a Gesù e godere della sua forza misericordiosa insomma c'è bisogno di fede la chiesa deve ritrovare sempre di più una fede autentica quella che fa guardare all'altro con lo stesso amore di Dio che non porta a giudicare che non considera le persone escluse o tagliate fuori dall'opera misericordiosa di Gesù al contrario la comunità chiesa che ha fede si inventa tutti i modi possibili e immaginabili per arrivare anche ai più lontani che forse tanto lontani non sono perché Dio è arrivato prima di noi chiediamo la grazia di essere chiesa comunità aperta fantasiosa e creativa nell'amore a partire da una fede autentica nella capacità di Dio di restituire dignità alla vita di ogni persona liberandoci dalle paralisi dei nostri peccati buona giornata